Cambiamenti che vedremo con il 166 in parte sono già stati conosciuti con l'inserimento di alcuni elementi che obbligano i fondi pensione a definire la politica di investimento. Ci saranno comunque dei cambiamenti sul versante delle nostre capacità di saper controllare l'attività dei gestori in asset class che fino adesso sono state utilizzate meno da parte nostra. E anche da parte nostra sempre lo sforzo di doversi sperimentare eventualmente in maggiori controlli del rischio, quindi in attività di risk management piuttosto che in approfondimenti su singole asset class specifiche, in particolare investimenti alternativi e asset class non quotati.